via signora e signore delle online oggi è venuto un ospite a bordo un famoso cantante della calabria che nessuno conosce ciccio ciccio muscutai comunque il suo piano principale era tic 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 allora è iniziato e lui cantando e ballando e allora sta registrando un particolare di oggi che il filo del microfono ce l'aveva con lui e come faceva? il filo del microfono e allora prima canzone poi ho visto che si era legato oh cazzo mi sono legato e basta vai ha fatto tasso non mi non fai andare avanti con la canzone andato a sbattere la testa soprattutto con la porta e soprattutto con la porta che alla fine la volevo buttare giù e sempre non contenta, sempre col filo tic 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 tacca 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 e quell'altro come ballabile con la vediamo e poi aveva la sua ekpo e c'eveva un ballerino questo è del suo pasto preferito e poi invitava la gente a cantare, a ballare, ma erano sempre quelli, i suoi tre delle truppe sfigate e comunque tutto il pubblico partecipava, chi giocava a carte, i cinesi dormivano andavamo a bordo degli ordini cinesi, questi sono più matti dei cinesi, ma sono i nostri e sempre lui, tiki 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 e si sbregava grazie Vito signore e signore dell'avventura di oggi è finita, abbiamo ora il ritorno